Musica Vediamo insieme quali sono le notizie dei quotidiani web regionali di oggi. Partiamo da Olbia.it. Fabrizio Pinna e Massimiliano Secchi, un incontro emozionale. La lunga battaglia di Fabrizio Pinna, il giovane olbiese colpito da Tassia per ottenere una vita normale, si arricchita di nuovo. Stupendo capitolo. Ieri pomeriggio nella casa disastrata di Via Baratta è arrivato un uomo speciale, Massimiliano Secchi, mental coach di fama internazionale, social star, nonché persona impegnata con anima e corpo nel sociale. Il giovane sardo è arrivato a Olbia con il suo staff e ha girato un video con Fabrizio Pinna, che verrà condifiso sulla sua pagina Facebook. Lo scopo è quello di aiutare il giovane olbiese ad andare via dalla casa di Via Baratta, sommersa per due volte in due anni dall'acqua. Massimiliano ha fatto anche una donazione di 500 euro al comitato pro Fabrizio. Proseguiamo con Sassari Notizie. Piglieru, all'aeroporto di Alghero, bene la raccolta fondi, ora tocca alle istituzioni. L'esperienza che avete concretizzato con questo fondo è esemplare, va valorizzata. Sempre bene che diventasse complementare all'impegno che le istituzioni sono chiamate a garantire. Da parte nostra abbiamo messo da parte risorse importanti che siamo pronti ad utilizzare e appena saremo certi di poterlo fare senza incorrere in sanzioni. Lo ha detto il presidente Piglieru ieri mattina nella sala dell'aeroporto di Alghero agli imprenditori che hanno dato vita all'iniziativa dei raccolta fondi per sostenere il traffico aereo internazionale. Proseguiamo con la nuova Sardegna. Uccise la ex che non voleva tornare con lui, condannato a 30 anni di reclusione. Il delitto avvenne a Villa Cidro. Marta Deligio aveva 27 anni. Venne strangolata da Giuseppe Pintus dopo uno stalking serrato inutilmente segnalato ai carabinieri della giovane. La ragazza dopo una breve relazione con Pintus lo aveva lasciato e si era rivolta ripetutamente ma senza risultato alle forze dell'ordine perché Pintus non accettava la rottura e la perseguitava. Proseguiamo con le cronache nuoresi. Fucili e pistole nell'ovile e in malette. Un allevatore di mamoiada nascondeva nel proprio ovile un vero e proprio arsenale. I carabinieri della squadriglia anticrimine di Pratobello della compagnia di Nuoro durante un patugliamento nell'agro di Mamoiada hanno rinvenuto tra le pietre di un omoretto a secco in un ovile un tubo contenente un vero e proprio arsenale tutte con matricola a brasa, diverse munizioni e della miccia detonante. Il proprietario dell'ovile è Antonello Staffa. Espletate le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Nuoro a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà rispondere di vari reati tra cui la detenzione abusiva di armi e numerose violazioni sulle leggi speciali. Il Latv.it, villa speciosa, incidente mortale dove un giovane di 22 anni ha perso la vita e la madre, una donna di 50, è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Brozo. L'auto al bordo della quale viaggiavano si è schiantata contro lo spigolo della recinzione di una casa trascinando anche un tubo del gas di città ma non si è per fortuna verificata alcuna esplosione. L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 20.30. E concludiamo con Cagliari Pad, l'allarme del rettore l'università rischia di morire una commissione composta da quattro esperti è già a lavoro per elaborare una bozza di modifica dei parametri da consegnare ai parlamentari sardi. Un momento delicato, ha detto il rettore Maria del Zompo per via del nostro Ateneo con fondi sempre inferiori che in un circolo vizioso finiscono per colpire chi già se la passa male un esempio su tutti la stessa ricerca per gli Atenei Sardi spiegano gli esperti e via via penalizzata dalle dotazioni di partenza quasi un drammatico conto alla rovescia ad aprile ha avvertito arriva la mannaia problema molto sentito infatti ieri pomeriggio l'aula magna di ingegneria luogo scelto per lanciare l'ennesimo appello era gremita circa 400 partecipanti con tante persone rimaste in piedi con questo è tutto grazie per l'ascolto e buona giornata grazie per l'ascolto e buona giornata